Tix 1010 ha donato 30 bits, occhio che questa è puro sangue. Dio a tutti, diciamo ciao a tutti, diciamo ciao alle USA, ciao a tutti! Minch che design qua, guardate che posa, se solo Puffa potesse vederlo guardate che posa, molto fiero il nostro batte, quel porco di Padrizio, guardatelo là, ha puntato, l'ha puntata, l'ha puntata, l'ha puntata, l'ha puntata, occhio, occhio, l'hai puntata? Grazie, i voglius hanno apprezzato? Grazie, 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 thank you, thank you, thank you, wow, thank you, thank you. I am single, eh? I am single. Can you say that again? I'm the designer, I want to photograph you. With me? Ok, yes. So, video. Ah ok, video. I am Italian boy, I am single, so I would like... I am single, yes. Ma che cazzo, si è spaventato, scusa, scusa, ma chi è stato? Ma Stefano è impazzito, ci ha fatto spaventare...